persi. Un titano andò a loro incontro a grandi passi, togliendosi di torno a calci mostri più piccoli, come se niente fosse. Era alto più o meno come Bob e indossava un'elaborata armatura di ferro dell'ostige, con un diamante che scintillava al centro del pettorale. Aveva gli occhi bianchi come pezzi di ghiaccio e altrettanto gelidi. I capelli erano dello stesso colore, rasati in stile militare. Infilato sotto un braccio aveva un elmo da battaglia a forma di testa d'orso. Una spada grossa come una tavola da surf gli pendeva dalla cintura. Nonostante le cicatrici di guerra, la faccia del titano era bella e stranamente familiare. Percy era sicuro di non averlo mai visto, ma i suoi occhi e il suo sorriso gli ricordavano qualcuno. Il titano si fermò davanti a Bob e gli diede una pacca sulla spalla. Già, Peto, non dirmi che non riconosci tuo fratello! No, non te lo dico, replicò Bob nervoso. L'altro titano gettò la testa all'indietro e rise. Ho saputo che ti hanno gettato nel lete. Deve essere stato terribile. Sapevamo tutti che saresti guarito prima o poi. Sono Ceo! Ovvio, Ceo, titano del... del Nord! Lo so, gridò Bob. Risero insieme e presero a darsi pacche sulle braccia. Stizzito da tutto quello sballottamento, Bobbino si spostò sulla testa di Bob e cominciò a farsi un nido fra i capelli d'argento. Povero Giapeto! Ti hanno conciato proprio per le feste, disse Ceo. Guardati! Una scopa? Una divisa da inserviente? Un gatto fra i capelli? Ade pagherà per queste offese? Chi è il semidio che ti ha sottratto la memoria? Ah, lo faremo a pezzi insieme, eh? Sì, certo, Bob deglutì. A pezzi! Percy strinse la penna tra le dita. Non aveva una grande opinione del fratello di Bob, anche senza quella minaccia di farlo a pezzi. In confronto al modo schietto di parlare di Bob, sembrava che Ceo recitasse in una tragedia di Shakespeare. Già quello bastò a irritare Percy. Era pronto a togliere il cappuccio a vortice, ma per il momento sembrava che il titano non lo avesse notato. E Bob non li aveva ancora traditi, anche se aveva avuto tante opportunità. Ah, che piacere vederti! Ceo tamburellò le dita sull'elmo a forma di testa d'orso. Ti ricordi come ce la spassavamo ai vecchi tempi? Certo, rispose Bob con voce stridula. Quando noi... tenevamo a freno nostro padre Urano. Eh sì, ci piaceva tanto lottare contro papà, lo contenevamo. È quello che volevo dire io. Mentre Crono lo faceva a pezzi con la falce. Sì, ah ah ah. Bob sembrava un po' nauseato. Che spasso! Tu afferrasti il piede destro di nostro padre, mi ricordo, continuò Ceo. E Urano ti diede un calcio in faccia mentre si divincolava. Quanto ti abbiamo preso in giro! Che scemo, eh? Bob a noi. Purtroppo quegli insolenti dei semidei hanno disintegrato nostro fratello Crono. Ceo trasse un sospiro. È rimasto qualche brandello sparso della sua essenza, ma niente che si possa rimettere assieme. Esistono ferite che neppure il tartaro può guarire, mi immagino. Ahimè! Ma il resto di noi sta per avere un'altra occasione, eh? C'è un sicchino in avanti, con aria complice. E i giganti pensino pure che saranno loro a governare. Facciamoli diventare le nostre truppe d'assalto e distruggere gli dèi dell'Olimpo. Va benissimo. Ma quando Madre Terra si desterà, si ricorderà che siamo noi, figli maggiori. Ricordati le mie parole. Beh, saranno i titani a governare ancora il cosmo. Ai giganti non piacerà, commentò Bob. E chi se ne frega di quello che piace a loro, ribatte Ceo. Hanno già oltrepassato le porte della morte per tornare nel mondo dei mortali. Polibotte è stato l'ultimo, neanche mezz'ora fa. Continuava a lamentarsi di aver perso le sue prede. A quanto pare, alcuni semidei a cui stava dando la caccia sono stati inghiottiti da Nyx. Non li vedremo mai più, scommetto. Annabeth afferrò il polso di Percy. Attraverso la foschia della morte, lui non riusciva a decifrare molto bene la sua espressione, ma lesse la paura nei suoi occhi. Se i giganti avevano già oltrepassato le porte della morte, almeno non li avrebbero più inseguiti nel tartaro. Purtroppo, però, questo significava pure che i loro amici nel mondo mortale si trovavano in un pericolo ancora più grande. Tutti i combattimenti sostenuti in passato contro i giganti erano stati inutili. I nemici sarebbero rinati più forti che mai. Bene! Ceo sguainò l'enorme spada. La lama irradiò un freddo più intenso del ghiacciaio di Hubbard. Devo andare! Leto dovrebbe essersi rigenerata ormai. La convincerò a combattere. Certo, borbottò Bob. Leto. C'è Orise. Non ti ricordi più neanche di mia figlia, eh? Non la vedi da troppo tempo, immagino. Quelli pacifici come lei ci mettono sempre tanto a riformarsi. Stavolta, però, sono sicuro che Leto combatterà per vendicarsi. Il modo in cui Zeus l'ha trattata dopo che gli ha dato quei due bei gemelli? Scandaloso! Per poco, Percy non sbuffò ad alta voce. I gemelli. Leto era la madre di Apollo e Artemide. Ceo gli sembrava vagamente familiare perché aveva gli stessi occhi freddi di Artemide e il sorriso di Apollo. Il Titano era il loro nonno, il padre di Leto. A Percy venne il mal di testa soltanto a pensarci. Bene! Ci vediamo nel mondo mortale! Ceo diede a Bob una botta sul petto e per poco non buttò giù il gatto dalla testa del Titano. Oh! E gli altri nostri due fratelli sorvegliano questo versante delle porte! Per cui, li vedrai molto presto! Eh, sì? Contaci! Ceo se ne andò a passi pesanti, quasi scaraventando a terra Percy e Annabeth che però fecero in tempo a scansarsi. Prima che la folla di mostri riempisse lo spazio vuoto, Percy fece cenno a Bob di chinarsi. Tutto bene? Sussurrò. Bob aggrottò la fronte. Non lo so. Fece un ampio gesto con la mano. In tutto questo, cosa significa bene? Non ha a tutti i torti. Si disse Percy. Annabeth scrutò verso le porte della morte, anche se la moltitudine di mostri le bloccava la visuale. Ho capito bene! Altri due titani sorvegliano la nostra uscita! Pessima notizia! Percy guardò Bob. L'espressione assente del Titano lo preoccupò. «Ti ricordavi di Ceo?» domandò con gentilezza. «Di tutte le cose che ti ha detto?» Bob afferrò la scopa. «Quando ne parlava, mi sono tornata in mente. Mi ha offerto il mio passato come... come una lancia. Ma non so se riprenderlo. Rimane sempre mio, anche se non lo voglio.» «No!» rispose Annabeth, decisa. «Bob, sei diverso adesso. Sei migliore.» Il miccio salto giù dalla testa del Titano. Gli girò intorno ai piedi, sfregando il muso contro i risvolti dei pantaloni. Bob sembrò non farci caso. Percy avrebbe voluto avere la stessa sicurezza di Annabeth. Avrebbe voluto dire a Bob con assoluta certezza che doveva dimenticare il passato. Però capiva le sue perplessità. Ripensò al giorno in cui lui aveva aperto gli occhi alla casa del lupo in California, con la memoria cancellata da Hera. Se qualcuno fosse stato accanto a lui quando si era svegliato la prima volta, se lo avessero convinto che si chiamava Bob, che era amico dei Titani e dei Giganti, ci avrebbe creduto. Si sarebbe sentito tradito una volta scoperta la propria vera identità. «Ora è diverso», si disse. «Noi siamo i buoni». Ma era vero? Percy aveva lasciato Bob nel palazzo di Ade, in balia di un nuovo padrone che l'odiava. Non si sentiva in diritto di dirgli che cosa fare, anche se la loro vita dipendeva da questo. «Penso che tu possa scegliere, Bob», si azzardò a dire. «Prendi le parti del passato di Giappeto che vuoi conservare. Lascia il resto. Quello che importa è il tuo futuro». «Il futuro?» Bob aggrottò la fronte. «È un concetto mortale. Io non devo cambiare, amico Percy». Guardò l'orda di mostri intorno a lui. «Noi siamo gli stessi. Per sempre. Se tu fossi lo stesso, io e Annabeth saremmo già morti», replicò Percy. «Magari non dovevamo essere amici, ma lo siamo. Sei stato il miglior amico che avremmo potuto desiderare». Gli occhi d'argento di Bob si fecero più cupi del solito. Stese la mano e Bobbino vi saltò su. Il titano si drizzò in tutta la propria altezza. «Andiamo allora, amici! Non manca molto!» Camminare nel cuore del tartaro non era divertente come sembrava. Il terreno era scivoloso e pulsava di continuo. Sembrava piatto da lontano, ma da vicino si vedeva che era formato da cavità e crinali, che diventavano sempre più difficili da attraversare man mano che procedevano. Grumi nodosi di arterie rosse e vene blu offrivano punti di appoggio per arrampicarsi, ma l'andatura era lenta. E i mostri erano ovunque. Branchi di segugi infernali si aggiravano in cerca di preda nelle pianure, ululando, ringhiando e attaccando qualsiasi mostro abbassasse la guardia. Le arai volteggiavano, sbattendo le ali da pipistrello e creando spettrali sagome scure fra le nubi velenose. Persi inciampò. Con la mano toccò un'arteria rossa e un formicolio gli salì lungo il braccio. «C'è dell'acqua qui! Acqua vera!» Bob grugnì. «Uno dei cinque fiumi! Il suo sangue!» «Il suo sangue?» Annabeth si allontanò dal gruppo di vene più vicino. Sapevo che i fiumi degli inferi sfociano tutti nel tartaro, ma... Bob annui. Fluiscono tutti attraverso il suo cuore. Persi passò la mano su una rete di capillari. Era l'acqua dell'ostige che scorreva sotto le sue dita? O quella dell'ete? Se una delle vene fosse scoppiata... Rabbrividì. Si rese conto che stava passeggiando nel sistema circolatorio più pericoloso dell'universo. «Dobbiamo sbrigarci!» Disse Annabeth. «Se non possiamo...» Le parole le morirono sulle labbra. Davanti a loro, scie frastagliate di oscurità squarciavano l'aria. Simili a lampi, ma nere come la pece. «Le porte della morte!» Disse Bob. «Ci deve essere un folto gruppo che le attraversa!» Persi sentì il sapore di sangue di Gorgon in bocca. Anche se i suoi amici dell'Argo 2 avessero trovato l'altro versante delle porte, come sarebbero riusciti a combattere contro le ondate di mostri che le attraversavano, soprattutto se i giganti erano già tutti lì ad aspettarli. «Tutti i mostri passano dalla casa di Ade», domandò il figlio di Poseidone. «Quanto è grande quel posto?» Bob scrollò le spalle. «Forse vengono mandati altrove una volta entrati. La casa di Ade si trova nella Terra, giusto? È il regno di Gea. Potrebbe spedire i propri servi ovunque.» Persi ebbe un tuffo al cuore. I mostri che attraversavano le porte della morte per minacciare i suoi amici nell'Epiro erano già un bel guaio. Ancora peggio se il terreno sul versante mortale era davvero come un'unica enorme rete metropolitana che depositava giganti e altri esseri malvagi ovunque Gea volesse spedirli. Al campo Mezzosangue, al campo Giove, o sulla rotta dell'Argo 2, prima ancora che gli altri semidei raggiungessero l'Epiro. «Se Gea ha così tanto potere, non potrebbe controllare dove andiamo a finire noi?» domandò Annabeth. Persi non apprezzò per niente la domanda. A volte avrebbe preferito che Annabeth non fosse così intelligente. Bob si grattò il mento. «Voi non siete mostri. Per voi potrebbe essere diverso.» «Fantastico!» pensò Persi, per niente rassicurato da quella congettura. Non gli piaceva l'idea di Gea che gli aspettava sull'altro versante, pronta a teletrasportarli in mezzo a una montagna. Ma almeno le porte erano una possibilità di uscire dal tartaro. E in ogni caso, non avevano un'alternativa migliore. Bob li aiutò a raggiungere la vetta di un altro crinale. E tutta un tratto, le porte della morte furono in bella vista. Un rettangolo di oscurità a sé stante, in cima alla collina successiva del muscolo cardiaco, a circa 400 metri di distanza. Le porte erano circondate da un'orda di mostri così fitta, che Persi avrebbe potuto raggiungerle camminando sopra le loro teste. Erano ancora troppo distanti perché ne potesse cogliere tutti i particolari, ma i titani che le fiancheggiavano su entrambi i lati gli erano abbastanza familiari. Quello sulla sinistra indossava un'armatura d'oro brillante e scintillava per il calore. Iperione, murmurò Persi. Proprio non ce la fa a rimanere morto. Il titano sulla destra, invece, portava un'armatura blu, con corna d'ariete ritorte ai lati dell'elmetto. Persi lo aveva visto soltanto in sogno, ma era senz'altro Crio, il titano che Jason aveva ucciso nella battaglia del Monte Otri. Gli altri fratelli di Bob, disse Annabeth. La foschia della morte scintillò intorno a lei, trasformandole per un attimo la faccia in un teschio sorridente. Bob, se sarai costretto, pensi di poter combattere contro di loro. Il titano sollevò la scopa, come se fosse pronto a lanciarsi in un lavoro di pulizia in cui c'era da sporcarsi parecchio le mani. Sbrighiamoci, disse, eludendo la domanda. Seguitemi. Sbrighiamoci, disse,